Allora abbiamo ripreso per la seconda volta perché praticamente c'era il microfono che andava a collidere contro la gemella di sinistra. Voleva partecipare anche al microfono e badiera accesa. Allora ragazzi eccoci qua con Laura che è tornata. Adesso oggi colgo l'occasione per dargli il regalo di Natale. Io sono già in modalità primavera, però noi ancora ci scadiamo i regali di Natale. Esatto, poi immaginiamo quando uscirà questo video sarà già Pasqua forse. Infatti. Adesso parliamo del caso in cui un uomo ti piace, ok, quindi in qualche modo ti invita ad uscire. Ok. Tu cosa fai? Sei troppo azzardato, quindi la richiesta viene in maniera troppo anticipata. Rifiuti, fai la difficile? Allora, ad essere sincera penso che poi io almeno reagisco in questo modo, poi penso che anche tante altre donne siano così. Sicuramente al momento in cui c'è un uomo che ti piace, che ti chiede di uscire, vorresti dirgli subito sì dopo tre secondi, perché è normale che magari... c'è talmente tanto quella felicità, diciamo, di volerlo vedere, di condividere qualcosa, che si vorrebbe, diciamo, anticipare i tempi il più possibile. Però... Infatti mi ricordo quella volta che mi hai evitato a te per la prima volta. Sei visto? Non si aspettava. No. Che lo dicesti in pubblico? No, comunque vabbè. No dai, stiamo scherzando. Siamo anche i primi passi, comunque. Però spesso non lo si fa, quindi non lo so se perché, insomma, sono delle regole di comportamento che comunque una donna vuole avere, perché è anche giusto, secondo me, farlo un attimino aspettare. Però il desiderio, se una persona ti piace, è quello sicuramente di volerlo vedere, di andarci a cena magari anche il giorno dopo, però per una qualche ragione sicuramente poi è una cosa che viene posticipata. Allora ti dico la mia, io sono dell'idea di non agire tempestivamente perché se tu cambi contatto, ok, cioè nel senso mi pongo sull'idea bene, adesso questa qua conosci un altro ragazzo, il ragazzo le pone la domanda di uscire dopo un giorno, cosa fa? Ci esce? Cioè se conosci quindi 20 tipi che ti chiedono tutti di uscire dopo un giorno, cosa fai? Esci con 20 ragazzi? Esatto, non siamo uomini e donne, quindi sicuramente non è la vita reale questa. Keep calm, dico sempre, ragiono un attimo, vedo se, cioè alla fine si instaura veramente un feeling nel corso di, so, almeno 5-6 giorni, una settimana, vedo che sono i presupposti e allora le chiedo di uscire, ok? Perché se no se parlo con, dici ragazzi devo chiedere di uscire tutte, qua diventa un casino. No, diciamo che è anche giusto, ma da entrambe le parti, sicuramente il fatto appunto è di stabilire un minimo di... Eh, un minimo di filo, di dialogo. Perché già da donna magari incontri un ragazzo che comunque, io parlo di uomo che ti piace, ma che è già diciamo iniziata una sorta di conoscenza, che è diverso nel momento in cui esci, fai una serata, ti incontri un ragazzo comunque carino in un locale, che ci parli due secondi, prendi un drink e ti invita il giorno dopo, sicuramente quello non è la cassistica di cui parlavo prima, del fatto che hai talmente tanto questione di serio di vederlo, perché prima appunto deve esserci comunque questo periodo di, almeno di, di conoscenza via telefono o comunque via chat, insomma con tutti i modi che abbiamo, che abbiamo adesso, il metodo di comunicazione, esatto, per, per capire effettivamente se può esserci un minimo di affinità, perché poi spesso a volte si bruciano le tappe, quindi poi sono dei flop, quasi sempre queste... Esatto, sì, sono dei fuochi di paglia, no? Nel momento in cui vedi che c'è tanta affinità, che comunque il desiderio cresce e che comunque anche è un uomo che magari sa rispettare i tuoi, i tuoi tempi, perché comunque trova anche il momento giusto e soprattutto anche il modo giusto per chiederti di uscire, perché anche quello è importante, il fatto della prima uscita è, diciamo, la prima occasione che tu hai comunque per fare colpo su quell'altra persona, perché comunque quando conosciamo una persona diciamo che è il primo impatto quello che poi ti fa capire se puoi proseguire esatto, il fatto anche di scegliere il momento adatto e che sia comunque una bellissima giornata, una bellissima serata, quello sicuramente fa tanto la differenza, quindi diffido sicuramente dagli uomini che ti chiedono di uscire subito, perché a volte poi ti trovi secondo me anche un po' imbarazzata nell'uscita, perché è un conto aver scambiato un minimo di conversazione, un aver capito, diciamo, anche dei punti in comune o comunque ritrovarti ad un appuntamento con un uomo di cui non sai assolutamente niente e secondo me mette anche un po' di agitazione, comunque di stress come incontro. Diverso se invece ci sono dei punti in comune, allora sicuramente quello è bello anche, diciamo, fare una prima uscita su qualcosa che piace ad entrambi, che possa essere, non lo so, un cinema o comunque andare a vedere una mostra, comunque fare una corsa al parco o qualsiasi cosa che possa mettere un attimino un po' più di tranquillità e anche di renderlo piacevole. Per questo non credo che ci siano, che ci sono delle tempissiche stabilite per uscire, però non credo dopo la prima settimana, cioè secondo me almeno dopo una decina di giorni. Addirittura, fai sudare così tanto? No, quello è limitivo anche perché magari ti sei incontrato il sabato o la domenica, l'hai conosciuto, magari tutta la settimana si lavora e poi magari con calma dopo una settimana, insomma, anche per avere, diciamo, quella sorta di desiderio, anche perché poi purtroppo è anche vero, tanti uomini, il discorso che hai fatto prima tu, pensano, vabbè, se le ho chiesto di uscire, lei ha subito accettato, magari fa così con tutti. E lo stesso lo pensa la donna. Io lo penso. Lo stesso lo pensa la donna, se la donna comunque, cioè nel senso, vedi dall'altra parte un uomo che ha bisogno subito di bruciare le tappe, comunque di fare delle cose che a volte sono troppo esagerate per il livello effimero di conoscenza, sicuramente non pensi che è un farfallone, quindi, insomma, perdi un minimo di interesse, perlomeno, insomma, a me è capitato sempre così, cioè quando ho visto che sono partito in quarto dopo due giorni, già con delle parole grosse o già comunque con delle cose abbastanza esagerate, sicuramente era una cosa che mi faceva un po' sorridere e poi di certo mi cambiava anche quel desiderio appunto di conoscere quella persona, che un po', secondo me, come anche il fatto di poi gli step successivi, di passare anche, diciamo, al bacio, di passare comunque a dei contatti più intimi, secondo me c'è un tempo per tutto. Assolutamente. Perché bruciare le tappe poi spesso e volentieri, insomma, rovino le cose. Il desiderio poi cale subito anche a volte. Sì, ma da entrambe le parti, cioè penso che qualsiasi uomo che sia talmente anche interessatissimo ad una donna nel momento in cui lei mossa di non avere carattere o comunque, diciamo, di lasciarsi andare un po' troppo velocemente, cala un po' quell'immagine che ha. Concordo. E lo stesso, secondo me, anche da un punto di vista femminile, quello sì. Quindi per quanto ci sia questo desiderio subito di voler fare determinate cose, a volte il messaggio è che non sempre il rifiuto è un rifiuto, cioè a volte dietro magari c'è tanto desiderio, però è anche, secondo me, è anche intelligenza dell'uomo di capire a volte quando fare un passo, a volte no, e se la donna decide magari in quel momento di dare un bacio, si scosta, l'uomo magari la prende sempre come un rifiuto. In realtà in quel momento è un rifiuto, però non sempre in realtà lo è, è solo un modo magari anche di mandare avanti il corteggiamento, di vedere dall'altra parte fino a che punto c'è l'interesse, sono tante cose, secondo me. Quindi il tempo è l'unica cosa che può dare le risposte, non ne abbiamo altre, ma il tempo sì. Ok, ragazzi, il tempo è scaduto, Laura ha parlato tantissimo. E andiamo. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Ciao.